e benvenuti sul mio canale oggi nuovo video e farò un video di nail art sulle mie unghie naturali apro una piccola parentesi scusate che mi tiro su avete visto questo è il topetino che l'ho preso dai cinesi blu mi piaceva blu e l'ho preso blu anche perché tutti c'erano e rosa o porpora o viola e l'ho deciso di prendere il blu molto molto carino e perché sennò del solito usavo quel tappetino lì quello di passione unghie e adesso ho comprato questo faccio un po un po un po questo un po colato però molto carino come sfondo perché è tutto brillantinato insomma allora andremo ad utilizzare praticamente fra questa nail art un po autunnale diciamo userò questo violetto prugna più o meno una roba del genere della melissa vabbè poi questo qui per il base dopo il top coat finale poi andremo ad utilizzare queste faiette qua sui toni del giallo dell'arancione del viola e del blu praticamente andrò a mettere a smalto questo colore qui su tutte le unghie e poi nel lati solo sul lato delle unghie andremo ad applicare queste paillette scusate se parlo piano ma ho mio figlio e mia mamma che dormono quindi scusate spero che mi capiate lo stesso e niente adesso vi saluto vi lascio al video al tutorial di questa nail art e ci vediamo a fine video ciao 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 l'arte finita quando ci andate un po di più de paillettes qua de meno comunque va bene insomma questo quello dell'arte finita spero che vi piaccia molto semplice da fare solo bisogna avere pazienza per come si dice per mettere le paillettes però guardate che effetto che da tutte queste paillettes con cioè le paillettes blu gialle arancioni viola rosa molto molto bello l'effetto mi piace tanto e se piace anche a voi fatemelo sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questa nell'arte molto molto bella molto fashion pare tutto sbrillucicosa e niente se il video vi è piaciuto mettete un pollice in su sotto nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di questa nell'arte se vi piace o meno e niente vi saluto vi mando un grande bacio e ci vediamo presto al prossimo video ciao